Il Granata regola 2-0 in nuova fette, facendo valere la propria felicità e infliggendo alla squadra ospite la terza sconfitta consecutiva in trasferta, prestazione che rende orgoglioso il tecnico di Casacantoni. È stata una bella partita da parte nostra, molto combattuta, maschia, siamo stati aggressivi dal primo minuto fino alla fine, non abbiamo concesso niente. Diciamo che siano stati anche facilitati dalla loro espulsione, che erano un po' nervosi, li posso anche capire, però la nostra vittoria penso che sia chiara e netta sotto tutti i punti di vista. Come con lo spuntricciolo, i giallobru allenati da Guerra rimangono in dieci per più di un'ora di gioco. Con lo spuntricciolo fu Lorenzo Fraboni ad essere espulso al 21issimo, contro il Granata, identica sorte a un altro centocampista, Paolo Gori, colpevole di un fallo di reazione, cosa che chiaramente Denis Guerra non digerisse. Quando giochiamo in dieci sembra che giochiamo in undici, l'unica cosa che si può salvare è la grinta e la determinazione che abbiamo portato in campo, quando non è facile rimanere in dieci dal ventesimo del primo tempo e l'unica cosa che mi viene da criticare alla squadra, perché dobbiamo correggere atteggiamenti sbagliati e evitare l'espulsione in dieci e rimanere in dieci per praticamente l'80% della gara. In avvio, Nuova Fretta è pericoloso con l'incursione a sinistra ad opera di Gabriele Raffaelli, che è arrivato davanti a Castagnoli, lo supera senza però riuscire a servire il fratello Tommaso pronto alla deviazione vincente sotto misura. Parte bene la squadra ospite, ma al primo a fondo il Granata passa. Un più attentativo sui sviluppi di un calcio in punizione viene sventato da Ronci con deviazioni in calcio d'angolo. Proprio dal corner nasce l'incursata vincente ad opera del giocatore Foschi. Tre minuti dopo, come detto, il Nuova Fretta rimane in dieci uomini per l'espulsione di Gori. L'inferiorità numerica costringe guerra a ridisegnare il Nuova Fretta con i 3-4-2, mentre i locali acquistano più sicurezza. Al 28esimo Pagliarani ci provoca una punizione. La traiettoria a scendere mette in difficoltà Ronci, che respinge con i pugni. Al 33esimo, un contropiede, porta Fuzzi davanti al porterone ospite. E' bravo a chiudere lo specchio della porta sul primo tiro di sinistro e a sventare con il corpo il successivo tentativo con il destro. Nella ripresa, al quinto, Semproli si gira il pinale di rigore, ma il suo tiro è corretto in corne dalla difesa ospite. A cambiare l'inezza della gara è l'episodio che avviene al minuto 64. Un tiro di controbalzo senza pretensia dopo la di Semproli sorprende il portiere Ronci. Al 70esimo lo stesso Ronci prova a riscattarsi, sventando un traversone su quale Pagliarani, ben appostato, non ne approfitta. E mentre al 75esimo l'arbitro sfugge una gomitata rifinata al difensore Fattori, schierato tra l'altro nel finale di gara nel ruolo di centroavanti, Tommaso Raffaelli tenta il colpo sotto, senza però fortuna. Nel finale arrivano le ultime due occasioni, da un cross di Cupi arriva la girata di Fattori con la pronta respinta di Castagnoli in uscita. Un minuto dopo, contropiede dopo la degranata, Bambino prova a scavalcare Ronci con un pallonetto di controbalzo che termina però alto. La gara termina qui, Dennis Guerra chiama rapporti suoi, ma sugli arbitri ribadisse. Niente, possiamo ripetere il servizio che avete fatto domenica, espulsione al ventesimo del primo tempo, ci condizioniamo le partite da soli. Ovviamente gli arbitraggi preferiscono non parlarne perché sono due domeniche che probabilmente li mandano in punizione in prima o in queste partite qui gli arbitri. E domenica arriva il Pietracuta, proprio nei derby mancheranno sia Gori che Fraboni. Ha senso importante in un momento certamente delicato per la compaggia giallobru, ma i derby, è sempre i derby.